Il tema del mare è sempre molto stimolante, però non bisogna incappare in certe banalità. Ecco perché da me non vi dovete proprio aspettare delle stoviglie a forma di pesce. Io ho ben altre chicche. E poi ho un segreto, quello di avere un ospite in più. Per questo table setting ho scelto delle tovagliette in lino all'americana, delle posate molto semplici e dei piatti turchesi fatti a mano. La mia tavola marina è dominata dal sale grosso, un elemento poco sfruttato purtroppo. A me serve per fissare i grissini in una coppa. Oltre alle conchiglie aggiungo in tavola un riccio che mi serve come porta candela. E direi che è tutto pronto per l'arrivo del mio ospite speciale. Ed ecco a voi Ugo, il mio pesciolino, protagonista di questo allestimento. Comunque non preoccupatevi, non si mangia sushi stasera. Dì, 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 dì.